cari amici buongiorno bentornati al caffè biblico questa mattina vorrei iniziare il caffè con una canzone sentiamo l'inizio di questa canzone ho bisogno di qualcuno come avete sentito Cesare Cremonini cantautore bolognese abbastanza noto in questa bella canzone comincia con le parole ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada poi nel resto della canzone ci parla dell'incontro con una ragazza che poi dà il titolo alla canzone ragazza del futuro e a questa ragazza chiede parla intraprende un dialogo con lei ma questa stessa ragazza dirà poi in una frase sei persa in una strada ragazza del futuro sei persa in una strada in altre parole ho bisogno di qualcuno che mi guidi che mi indichi la strada e mi imbatto in una ragazza persa anche lei questo è un classico e ci perdiamo in una strada magari di montagna e chiediamo le indicazioni e qualcuno che ci dice ah vai dritto e poi a destra noi andiamo dritti a destra e sbagliamo strada poi incontriamo qualcuno più saggio che ci dice no dovevi venire qui ma poi dovevi andare a sinistra quanto è importante avere le giuste indicazioni ma non da ragazze perse non da persone che non sanno la strada ma da chi può veramente darci dei saggi consigli tanto più che vi leggo una frase della bibbia molto importante che c'è scritto c'è una via che all'uomo sembra diritta ma essa conduce la morte ci sono tante strade che sembrano dritte o magari la maggioranza ci va o magari si presenta attraente è gradevole comoda ma non è quella giusta e finisce col portare alla morte io invece da molto tempo ho fatto una scelta mi rivolgo a questo libro che è la parola di dio la bibbia che dice tra l'altro la tua parola è una lampada al mio piede una luce sul mio sentiero seguendo le indicazioni di questo libro noi non non finiamo nelle grinfie di una religione o di una furbetto che ci guida nel posto sbagliato o di un guru o di un maestro che ci guida a seguirlo no seguiamo quello che dio ci indica e sapete tutta la scrittura tutta la bibbia indica in particolare una persona che è gesù colui che un giorno disse apertamente francamente io sono la via nessuno viene al padre se non per mezzo di me stai cercando la via stai cercando la strada non fare giro delle religioni non cercare quella che più ti piace non cercare la via più comoda o la via più che più si adatta le tue caratteristiche cerca la via giusta e la luce sulla via giusta te la da questo libro la via è gesù andiamo da gesù tu e io e siamo sicuri di non avere brutte sorprese dio ti benedica caro amico